Cos'è la presenza per voi? Tu puoi parlare spagnolo? Sì, sì, sì. E' la recuperazione. Per noi vuol dire recupero. C'è stato un periodo di 25 anni dove non si è parlato assolutamente di Ocagna che è un'intera generazione che non ne sa nulla. Quindi è un recupero per noi. Rispetto al film Family Tree dove si parla di un personaggio che non è più riuscito a recuperare nel presente il suo passato, questo personaggio invece recupera nel presente nonostante la distattura di Franco riesce comunque a manifestarsi nel presente. Allora, sul vostro memoria. Comunque nel nostro film si tratta di un uomo più gay che era svelato che non ha mai potuto parlare della sua storia quindi per noi sono d'accordo che è un modo di recuperare qualcosa della storia della nostra comunità se c'è una comunità. Il fatto che in Francia non si parla mai della deportazione durante la guerra ci sembra una cosa impossibile quindi penso che noi abbiamo cercato di lavorare sul silenzio che cosa significa il silenzio. Ma questo è un problema solo francese o anche pensi che sia... tu l'hai presentato il film alla Berlinale in Germania credo che si parli sì, molto di più da vent'anni in Germania spesso della memoria è sempre un tema molto forte per il film ma in Francia no in Italia credo che... non lo so in Italia si sta sempre in Italia si sta sempre possiamo chiedere anche a Patrizia che cosa pensa se... questo tema della memoria per me è una notizia perché io sono inspirata e rispondo bene alle storie di Vincenzi e per andare in un pasto dove vedo sconfitte lacrime e dolore mi rende molto triste mi hanno detto e 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 mi hanno detto il gruppo degli Zico Roquette era un gruppo vincente all'epoca perché pur essendo il passato di Vincenzi era l'unico gruppo che riusciva a superare la censura di una dittatura o no è vero erano una storia vincente da loro non la tua la loro si è vero si è vero di una certa volta e si sono si è vero in il paese e si è vero in un paese oggi questo film può risultare vincente ma prima non pensa questo gruppo si può risultare vincente ma se fosse stato collocato in tempi diversi o nel passato non si aspettava questa vittoria cioè la memoria di questo gruppo è stata completamente cancellata se si era che lui per fare il film non doveva andare all'estero per ritrovare la memoria dei documenti relativi a questo gruppo io mi sono chiesto di chiedere per Michel appunto su qual è il suo rapporto con questo ricordo e il rapporto con i genitori per me non è una questione di lui cioè lui sta parlando appunto della sua storia, del tema del film della sua storia che parla di abuso sessuale, non di violenza sessuale e in questa storia chiaramente lui dice che parlare di questi temi per una persona eterosessuale probabilmente è ancora più complicato e più complesso parlare appunto di questa situazione sessuale appunto di questa esperienza negativa quindi ritiene che forse per un omosessuale anche in un contesto come questo è più semplice per parlare di queste tematiche una domanda è appunto le motivazioni di aver espresso questo tema il sesso terapeutico per lui e per altre persone con la stessa problematica lui dice che ci sono tante esperienze che ha raccolto soprattutto nell'ambito della chiesa e lo sappiamo di questi scandali sessuali all'interno della chiesa e lui ritiene che appunto molte persone riescono io penso che lui parli però chiaramente molto della Germania a esprimere questo è il loro passato, questa è la loro storia tra i 30 e i 40 anni quando hanno raggiunto una certa consapevolezza sessuale proprio perché voglio collegarmi al film di Monti perché anche nel film di Monti Parongao anche se non è una storia autobiografica ma una storia vera anche la sua si racconta come un'esperienza sessuale del padre funzioni la sessualità del figlio la tematica la trovo molto semplice rispetto ai grandi temi che sta affrontando questa serata e ascoltando vi ho realizzato che la mia tematica è molto più semplice soprattutto rispetto ai paesi islamici e cattolici noi ci sentiamo più libere di esprimere i nostri sentimenti e nelle Filippine il numero di persone omosessuali si sta sempre di più moltiplicando io prima lo chiedo a te poi lo chiederò anche a Peter che ha trovato una soluzione diversa come vedete voi il rapporto con il passato? non saprei, guardando anche, secondo me è sicuramente cambiato molto rispetto al passato la visibilità, nonostante sia un paese normale la questione della visibilità è qualcosa che sta cambiando in qualche modo chi del nostro gruppo è un po' più anziano ci dice che no no, 25 anni fa portando al festival quando è iniziato questo festival nella prima edizione di 25 anni fa al Cinema Faro mi ricordo che arrivava magari Rai 3 e molte persone non si possono andare a prendere perché era ancora una cosa clandestina il tuo rapporto con il passato quindi è voglio fare una cosa completamente nuova o ti affidi al passato? la ragione per cui ho fatto questo film è perché vuole essere una favola che non sia solo accessibile in un contesto di festival di cinema queer ma soprattutto che sia accessibile alle giovani generazioni che non sia un film pesante che non sia troppo serio nel senso di serioso ma più accessibile ai teenager e ai giovani ragazzi e che possano divertirsi molto grazie a tutti grazie a tutti